3.000 soldati in oltre 20 paesi. A questo tempo concorre con le forze di polizia nel controllo del territorio e nel contrasto alla criminalità organizzata. Interviene in favore delle popolazioni colpite da pubbliche calamità. Il generale di brigata Gaetano Canardo, comandante della brigata meccanizzata per l'attività di Sardegna, apre il secondo settore rappresentativo dell'esercito. Il generale di brigata Gaetano Canardo, comandante della brigata Sardegna, seguita dalla protaglia del cento di quale unesimo del diritto da L'Arteria Sardegna, con le uniformi storiche della prima guerra mondiale, sostenuta dalla spirito del battito e dalla forte corzione e dignità, se dice il maestro Morse e i secchi di battaglia. Gioio, signo Mussolini, dono le temunzze ad attarina, Gioio, signo Mussolini, dono le temunzze ad attar마, di Foglio, signo Mussolini, dono le temunzze ad attar fliesogliari, e' della forma una storia per la Maya e i secchi di occu kidneysgo, dalla vista di footodio e l'ambiente awe po merita alla prevista di Prestiglia, con quelli che comportano attivi delle scuole normali, siatelle e del nio. Questi istituti di formazione sono licei di primissimo livello che oltre a portare una preparazione di altissima qualità e regolano costante attività ginnico-sportiva e formazione militare. I giovani frequentatori acquisiscono capacità e competenze utilizzabili in qualsiasi contesto valutativo. Grazie.